Buona Pasqua, care amiche e cari amici, ci sembra ieri di aver registrato una intervista con Simone Cristiano, direttore di Radio Rosso Nera durante le vacanze di Natale, proprio per le vacanze ci sempre l'intervista, però la vacanza di Natale era una vacanza con davanti il tutto e il nulla e qui invece siamo a poche ore, diciamo qualche giorno dal match contro il Napoli. Cosa ha voluto dire questa battuta di arresto dolorosa contro il Lempoli? Cosa dire che forse non abbiamo capito fino in fondo il reale valore della partita di Napoli, cioè che quella partita che abbiamo valorizzato entrando in campo fin dal primo minuto con un atteggiamento che era quindi verso da Udine, diciamo che non siamo guariti semplicemente, questo Milan che ogni tanto ha zoppicato tra ottobre e novembre e poi è caduto. In gennaio sembrava essersi rimesso in piedi con le buone vittorie di inizio febbraio, la grande vittoria di Napoli e invece ancora una volta ha zoppicato. Ecco, forse è un peccato proprio per se stessi, è quasi una sorta di autoregionismo più che per l'esterno e proprio per il Milan stesso essere un po' ricadere nel peccato non è bellissimo. Che cosa significa appunto questo risultato in vista di Napoli, del match di Napoli-Campions League? Ma credo che, come abbiamo visto anche per la partita di ritorno, anzi scusate, di campionato a Napoli, le scuole vanno abbastanza via in fretta soprattutto quando riparte quella bella musichetta della Champions League, però è ovvio che saremmo stati molto più felici di viverci un lunedì di Pasqua o un martedì di avvicinamento, la conferenza stampa, il mercoledì eccetera con ben altro sorriso. Ti porterà magari della tensione, ti porterà un pizzico di certezza in meno rispetto a quel bel 4-0 di Napoli però ti dico Carlo, io credo che alla fine della Champions League e l'allenamento di rifinitura quando inizi a giocare con la palla della Champions League e con le stelline passa tutto. Il tema, uno dei mille temi è quello Napoli, 4-0 nella partita di campionato, è un Napoli più aggressivo e concentrato e orgoglioso o un Napoli che può eventualmente risentire psicologicamente, soprattutto se il Milan iniziasse bene la partita può risentire di quel risultato pesante? Ma guarda, io credo che il Napoli ovviamente per me non ha né sottovalutato la gara di campionato né sottovaluterà la prossima, né entrerà in maniera più cattiva perché ha preso 4 gol domenica sarebbe da folli pensare che è una squadra che affronta per la prima volta, giù di lì, i quarti di Champions League forse è la prima volta che affronta i quarti di Champions League, da quando la manifestazione è questa con uno spirito diverso perché ha preso o no 4 gol pochi giorni prima io penso che, anzi, la vittoria del Milan abbia più fatto male per paradosso proprio allo spirito del Napoli perché gli ha minato quelle che sono le certezze che da settembre a questa parte il Napoli si è costruito bonta loro perché comunque è tutto merito loro essersi costruito tante certezze della coppia difensiva che non sbagliava mai invece con noi è sbagliato parecchio lo Vodka che praticamente è stato forse uno dei migliori centrocampisti d'Europa è uno sicuramente dei migliori della Serie A che non è stato praticamente mai visto sul campo perché è stato cancellato da Ismael Benasser e tante altre incertezze che il Milan è un po' entrato sotto pelle del Napoli io spero che questo primo, diciamo così, morso del Milan possa portare a qualcosa di buono Ormai c'è la grande attesa, mancano, ripeto, ancora tre giorni oggi è domenica, è Pasqua però insomma il Milan si sta allenando sul tuo piano personale e magari cerca di rappresentare i tifosi che significato ha questo quarto di finale non contro le favorite che sono di là e questo vale anche per il Napoli, l'Inter e il Benfica, ben inteso questa possibilità concreta di arrivare in finale perché eviti un Real Madrid che qualche giorno fa ha dato quattro gol al Barcellona eviti il Manchester City che è il Manchester City eviti anche un Bayern, un Pondivago perché è stato eliminato anche mi sembra dal Freifurg in Coppa, però aveva dato quattro perottine anche lui al Borussia Dortmund come la vivi questo quarto di finale e come i tuoi amici e ascoltatori di Radio Rosso Nera come la stanno vivendo? questa attesa prima ti dico quello che penso io e in parte anche quello che pensano i tifosi del Milan che ci ascoltano è innegabile che quando sono uscite è uscito il sorteggio ma soprattutto è uscito anche l'abbinamento della semifinale nessuno di noi credo che abbia fatto per 30 secondi il pensiero sì ma tanto il Milan in questa stagione non ce la fa arrivare in finale è ovvio che tutti abbiamo detto caspita, la parte nel nostro tabellone è fattibile, non impossibile a me Simone, te lo dico sinceramente, è battuto un po' il cuore perché non pensavo di avere una strada, non facile non una strada, ma una strada possibile non è una strada, non è una strada in discesa è un bel sentiero con magari qualche inciampo da qualche parte che ti può far cadere però quantomeno il sentiero c'è, è aperto poi che si possano arrivare alla meta è la Champions League basta veramente nulla ma l'abbiamo visto ad esempio con la partita con il Chelsea il Milan approccia molto bene tu mori, viene espulso anche ingiustamente la partita cambia, tu perdi magari la qualificazione ti gira in un istante c'è ovviamente una parte del tifo che diciamo ha somatizzato questa sì la stagione e non vede possibile il Milan per il doppio exploit perché alla fine servono quattro partite di ottimo livello per arrivare in finale però c'è una buona possibilità e tanti tifosi del Milan questa buona possibilità se la vogliono tenere fino in fondo e vivere sulla fine in fondo sì io sono contento perché a me era battuto il cuore ed ero fiducioso per la storia del Milan più che per il reale valore rispetto al Napoli poi la partita di Udine mi aveva ovviamente depresso perché ho detto beh allora è tutto il mio ottimismo poi la partita di Napoli mi ha restituito non ottimismo ma fiducia fiducia e che cosa sul piano tecnico vorresti rivedere della partita di campionato contro il Napoli a San Siro a me è piaciuto molto l'attenzione il Milan è attento è una squadra ben preparata alla vigilia che va in campo con quella determinazione che abbiamo visto subito contro il Napoli che non vuol dire essere aggressivi fisici ma essere attenti sempre sul ritmo della partita quello che il Milan ha sempre fatto negli ultimi due anni in realtà anzi tre forse cosa che forse abbiamo un pochino perso in realtà negli ultimi due mesi ma in tutto sommato il Milan ha sempre dimostrato di saper sfruttare e che invece va sempre sfruttato tolti al mese di gennaio e febbraio soprattutto nei big match il Milan difficilmente li toppava a livello di concentrazione e di ritmo poi poteva perdere ma quella è un'altra questione ecco a me piacerebbe rivedere il Milan che abbiamo visto quest'anno con la Juve con l'Inter con il Napoli nelle sfide importanti di Champions League perché anche quest'anno il Milan ha dimostrato che quando attacca la spina e io spero che a questo punto la spina sia stata incollata alla presa il Milan può fare davvero il Milan come si dice? io ho sempre sostenuto Simone che il Milan non sarebbe andato da nessuna parte senza la crescita di Leo penso che sia una delle chiavi di volta per poter sperare di battere il Napoli per sperare di qualificarsi per la Champions e sperare andare avanti anche in Champions a quale grande squadra vince un trofeo arriva molto in fondo senza che i suoi due o tre giocatori principali siano impattanti sulle gare nessuno riesce a fare un piccolo percorso qualche tappa senza i giocatori importanti al top perché si compatta il gruppo il gioco di squadra il giocatore che magari riesce dalla panchina ti aiuta però in Champions League soprattutto in Champions League se il big ti aiuta 2007 Riccardo Cacà giocatore migliore del torneo arrivi in finale se no senza il tuo big è difficile io non ho mai visto delle squadre lo stesso Real dell'anno scorso escono a Nathalie Benzema che è irreale ogni partito nel pallone che toccava era gol in Champions League tant'è che vince il Real Madrid senza Raffaele A o quantomeno gli altri due big del Milan che sono Teo e sono Mike Magnan non vado da nessuna parte un'altra domanda curiosa mettimi contro il Napoli mercoledì attenzione ragiona a non andare di pelle un giocatore degli immortali un giocatore degli invincibili e un giocatore dei meravigliosi poi metto anche il niente calcola che dove sono le nostre dove sono le nostre forze e dove serve invece una bella iniezione allora perché parliamoci chiaro Van Basten è facile però uno deve ragionare in questo momento con questo Milan dietro Van Basten sarebbe sufficiente per aiutarci? certo potrebbe essere un sì forte quindi quali sono i giocatori? ti direi che mi prendo Paolo Maldini dietro mi prendo Andri Sevcenko davanti e quelli di Fabio Capello Desailly noi parliamo degli invincibili forse 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 Marcel Desailly sì perché per il Milan attuale avere un bel centrocampista come Marcel Desailly aiuterà io prenderei Van Basten perché mi fa vincere la parola da sola forse anche se attenzione perché è un bullet al posto di Leao e così gli amici è una discussione che poi mi interessa nei commenti metterei prenderei del Milan degli invincibili un bel Donadone a destra perché è stato protagonista anche col Milan degli invincibili e col Milan dei meravigliosi io prenderei forse Kakà col 10 insieme ci può probabilmente arriveranno in finale entrambi e amiceremo esatto senza alcun problema com'è l'attesa dei tuoi ascoltatori come la stanno vivendo da un lato devo dire la verità sono abbastanza come dire cresciuti sotto questo punto di vista perché per tutta la settimana si è concentrati molto sulla partita su Empoli quindi sono maturati ora si è fatto lo switch è ovvio che dal 95esimo 96esimo metti i minuti che vuoi della partita di Empoli la tensione non è più tanto quello che si è fatto con l'Empoli ma è andata al Napoli è una forza di cose sono i quarti di Champions League forse un pochino ce li siamo dimenticati un po' è passato quel sapore come la starà vivendo Pioli che anche lui deve con curiosità dice ma come la sto vivendo io penso che insomma il mister è sempre stato una delle persone forse più equilibrate all'interno del Milan negli ultimi anni è sempre cercato di tenere sotto il polso della situazione i battiti abbastanza regolari è ovvio che entrerà i quarti di Champions League cambia perché c'è tutta un'infrastruttura la bella scritta grossa road to Istanbul il cerchio di centrocampo col telone la musica la musica di preparazione le prove dell'inno della Champions durante il riscaldamento insomma l'atmosfera sarà speramente molto molto diversa anche se si gioca contro il Napoli che per quanto forse un po' ti riporta una dimensione non tanto europea però insomma quando vedi i tabelloni blu con le stelline bianche come fai a non emozionarti ringrazio Simone Castello direttore di Radio Rosso Nera buona Pasqua a tutti ancora e l'appuntamento ovviamente per questa grande sfida se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like iscrivetevi al canale di Carlo Pelegati attivate la campanella e non dimenticate di scaricare il link in descrizione all'applicazione numero 10 a tutti